Benvenuti innanzitutto, ho realizzato questo video tutorial con lo scopo di presentare il funzionamento del programma open source, e quindi libero e gratuito, PDF Creator. Come dice il nome stesso, è un programma che consente di creare file PDF, quindi salvare qualsiasi nostro documento in questo famoso formato, nel formato PDF. Andiamo innanzitutto sul motore di ricerca www.google.it, che certamente già conoscerete, e lì stesso digitiamo la scritta PDF Creator. Attenzione, non bisogna mettere spazi tra le due parole PDF e Creator, perché il nome del programma è scritto così, tutto attaccato, quindi PDF Creator e clicco su Cerca con Google. Una volta fatto questo clic, mi appare, tra i vari risultati, il primo proprio, è quello del sito ufficiale del progetto open source di PDF Creator, e se volessimo raggiungere direttamente questo sito, basterebbe digitare questo indirizzo, appunto, sourceforge.net slash projects slash PDF Creator. In questo caso, invece, ci è molto più comodo cliccare direttamente il link che porta direttamente al sito. Eccoci, il sito è molto semplice, purtroppo è solo in inglese, ma in realtà dobbiamo farci così pochi movimenti che non è interessante questo. Cliccheremo qui dove dice Download PDF Creator, appunto, è il link che ci dà la possibilità di scaricare, appunto, fare un download del nostro programma. Io ho preventivamente inserito una mia pennetta USB nel computer e quindi scaricherò il software nella pennetta, ma potrei scaricarlo in qualsiasi altra cartella di qualsiasi altra memoria, anche dell'hard disk interno. In questo caso veniamo reindirizzati sulla pagina del download, devo scorrere verso il basso, dove ho questa tabellina, e ci viene consentito lo scaricamento dei file di lingua, ma della vecchia versione, la versione 0.9.3, quindi non è quella che interessa a noi. A noi interessa la nuova versione del programma, che è questa, la 0.9.5, e quindi è qui, in corrispondenza di questa scritta, che cliccheremo su Download. Download vuol dire scarica, appunto. Arrivati quindi su quest'altra pagina, ecco, non lasciamoci prendere dalle pubblicità che ci sono un po' dappertutto, il file che dobbiamo scaricare è questo, si tratta del file di installazione, PDF Creator è il nome del programma, 0.9.5 è la versione, setup vuol dire appunto installazione in italiano, punto exe, perché si tratta di un programma, e quindi è normale che abbia l'estensione exe. Normalmente bisogna stare molto attenti a scaricare da internet dei file exe, perché potrebbero contenere virus, ma in questo caso siamo su un sito sicuro, e quindi possiamo tranquillamente fidarci. Vado a cliccare quindi su questo link, PDF Creator, eccolo qui, e a questo punto dovrebbe partire automaticamente lo scaricamento del file. In realtà ciò non accade in questo momento, a causa di una protezione di Windows, infatti qui dice, per facilitare la protezione è stato bloccato il download del file dal sito. Questo accade su qualsiasi Windows che sia aggiornato almeno al Service Pack 2. Quindi io che faccio? Siccome so che questo è un sito sicuro, e che quindi posso scaricare il file senza pericoli, andrò a dire a Windows di fidarsi, cliccando su questa scritta e confermando sulla scritta scarica file. È un po' come se mi prendessi io al posto di Windows la responsabilità di scaricare questo file, affermando che si tratti di un file sicuro. Attendo ancora un attimo, viene ricaricata la pagina, e questa volta, come in realtà doveva succedere già nel primo caso, partirà lo scaricamento. Eccolo qua, è questa finestra qui, no? La finestra ci chiede, è sempre una finestra di Windows, ci chiede se vogliamo eseguire direttamente il file da internet, ma noi non vogliamo farlo perché vogliamo prima scaricarlo, anche perché sono 15 MB, quindi è piuttosto ingombrante, oppure se lo vogliamo salvare, ed è questa la scelta che noi faremo. Andremo a cliccare su Salva. Ora, una finestra successiva ci chiede dove vogliamo salvare, noi ovviamente salveremo nella nostra pennetta che avevo preventivamente inserito, in questo caso viene riconosciuta con la lettera G due punti, e poi il nome Ruggero temporaneo, era un nome che avevo dato io in formatazione della pennetta, a volte potrebbe esserci il nome della marca della penna, oppure semplicemente la scritta a disco rimovibile. Quindi vado a selezionare, ci sono già degli altri file qui dentro, sono anche questi file di installazione di alcuni programmi, freeware ed open source, ma in questo caso non ci servono. Il nome del file che stiamo scaricando è quello su cui avevamo cliccato prima, andiamo a controllare che sia proprio quello giusto, è normale che come tipo file ci sia scritto applicazione, che vuol dire programma, vado a cliccare Salva e parte il download, parte lo scaricamento, che è questa finestra qui. Il Windows ci dice che come tempo stimato residuo ci sono circa 40 secondi, e dovremo attendere, questi sono i megabyte che abbiamo già scaricato, questo è il totale invece che dobbiamo scaricare, quindi questa specie di termometro dovrà arrivare fino alla fine. Attendiamo. Il tempo necessario. In questo caso avendo una linea DSL stiamo avendo una velocità di scaricamento piuttosto elevata, in realtà con dei software appositi si potrebbero ottenere delle velocità ancora maggiori, ma magari di questo ne parleremo in un ulteriore tutorial fatto in seguito. Ancora qualche istante. Eccoci quasi in dirittura d'arrivo. Finito questo chiuderemo tutte le finestre, compresa quella del sito, e andremo quindi ad aprire la nostra pennetta per visualizzare il file che abbiamo scaricato. Quindi qui dice download completato, ci ha messo un minuto e tre secondi per scaricare 15 megabyte. Sono stati scaricati in G2 punti, c'è nella nostra pennetta, con questo nome di file. Quindi qui chiudo e chiudo anche la finestra del sito perché ormai non ci serve più. A questo punto potrei anche disconnettermi da internet, ormai il file è di mia proprietà, apro il risorso del computer, mi posiziono all'interno della mia pennetta, quindi vado ad aprirla, la pennetta USB, ci sono anche altri file, ma quello che ho appena scaricato è questo, PDF Creator 095 Setup. Vado ad aprirlo con un doppio clic e parte l'installazione del programma. Innanzitutto mi viene chiesta qual è la lingua che voglio usare durante l'installazione ed ovviamente io sceglierò italiano nella lista. Va bene? Qui in questo caso è già selezionato italiano. Do ok. Ancora una finestra di benvenuto nell'installazione. Vado su avanti. Qui c'è il contratto di licenza perché per quanto si tratti di un software open source non sono software senza licenza, c'è comunque una licenza, ma che è una licenza aperta, libera. In questo caso posso tranquillamente accettarne i termini potendo stare certo che non c'è nulla da pagare o cose simili. Ci viene chiesto se vogliamo un'installazione standard piuttosto che un'installazione server, ma noi vogliamo ovviamente un'installazione standard perché lo stiamo installando su un computer singolo normale. Quindi senza cambiare nulla in questa finestra, clicco ancora avanti. Ora, dato che PDF Creator, come dice in questa finestra, va ad installare una stampante virtuale sul nostro computer e quindi una stampante che apparirà in pannello di controllo stampanti e fax insieme alle altre stampanti che abbiamo già installato, ci viene chiesto che nome vogliamo dare a questa stampante. Io sinceramente sono abituato a lasciare il nome PDF Creator in maniera che non mi dimentichi magari del nome che ho dato e è un nome certamente più intuitivo. Però se si volesse cambiare lo si potrebbe anche fare. In questo caso non lo cambio e vado su avanti. Qui mi viene chiesto in quale percorso del mio hard disk principale, c'è di C2 punti, voglio installare il programma. Anche qui è una cosa che va benissimo, così non c'è bisogno di cambiarla. Vado avanti. Mi viene dato un avviso anche del fatto che PDF Creator installerà un suo modulo aggiuntivo all'interno di Internet Explorer, che è questo qui ora si vede un po' piccolino, poi dopo ve lo farò vedere dopo l'installazione. In pratica è una barra di strumenti aggiuntiva che si aggiunge nel programma Internet Explorer, nel programma che normalmente usiamo per navigare in Internet, e che dà alcune funzionalità, tra le quali un motore di ricerca. Lo vedremo poi dopo. Quindi ora qui clicco avanti, anche qui senza cambiare nulla, vado su avanti, anche qui vado su avanti, ed infine, ecco qui, nell'ultima finestra ci sarà il clic installa. In pratica non abbiamo fatto nulla di particolare, abbiamo cliccato sempre avanti fino ad arrivare all'ultima finestra dove abbiamo cliccato installa. Attendiamo ora che si completi l'installazione. Ancora qualche istante. In pratica in questo momento si stanno scompattando ecco dei file inclusi in questo archivio compresso exe, e questi file vengono copiati nel percorso indicato durante l'installazione che era appunto C2.programmi PDF Creator dove poi vengono create svariate sotto cartelle con vari file che saranno i file del programma. Questo accade in pratica in qualsiasi installazione di programmi in Windows. Ecco, è quasi finito. Ecco, qui ora ci veniamo avvisati che PDF Creator sta anche installando il driver della stampante. Questi altri messaggi che appaiono sono messaggi di un programma di protezione di nome Spybot che sto utilizzando ma diciamo non riguardano l'installazione normale di PDF Creator. Poi in un tutorial successivo magari vi parlerò anche di questo Spybot che è un programma freeware che andrebbe affiancato ad ogni antivirus. Ecco qui ma questo sarebbe un altro argomento. Quindi finalmente l'installazione risulta completa risulta completata e potremo utilizzare il programma. Clicco su fine chiudo l'icona di risorse del computer allora sembrerebbe dalle icone presenti sul mio desktop che nulla sia cambiato in realtà nel momento in cui adesso apro un qualsiasi programma come ad esempio il Word e nel Word se vado ad aprire un qualsiasi file prendiamone uno ecco qui letterecommerciali.doc lo apro apro questo file e supponiamo ora di voler mandare questa lettera commerciale a un mio contatto diciamo ad una persona con cui lavoro un collega però volergliela mandare non nel formato originale .doc ma nel formato PDF tra l'altro in questa maniera proteggendo in un certo senso il mio file originale perché un file PDF è molto più complicato da modificare da contraffare diciamo così rispetto a un file .doc oltre al fatto che i file PDF di solito occupano meno spazio e quindi sono da preferire nei trasferimenti via internet che cosa faccio? non farò file salva con nome perché il salvataggio in formato PDF non è una funzionalità di Word però devo utilizzare ecco il PDF creator che abbiamo detto durante l'installazione viene installato in Windows come una stampante virtuale quindi io dirò a Word che voglio stampare in un certo senso lo prendo in giro gli faccio credere di voler fare una stampa quindi clicco file stampa e nella finestra di stampa dove c'è l'elenco delle stampanti utilizzabili cliccando sono elencate varie stampanti c'è una Epson laser c'è una Epson a getto d'inchiostro c'è anche la nostra stampante virtuale PDF creator vado a selezionare quella attenzione notate come Word è convinto di utilizzare una normale stampante e invece sta usando un software che simula una stampante a questo punto qui sceglierei le pagine da stampare il numero di copie tutto come accade in una normale stampa ma quando do ok non viene fuori nessuna stampa non viene fuori nessun foglio stampato apparirà adesso un'altra finestra attendiamo un attimo eccola qua questa è la finestra di PDF creator in pratica quando Word ha finito di trasferire il suo documento su questa stampante virtuale ormai Word non è più diciamo incluso in questa operazione ma tutto è passato al nostro programmino PDF creator che ha ricevuto i dati di stampa del file lettere commerciali qui poi c'è in un formato magari non facilmente leggibile c'è la data 2008 luglio 07 06 il giorno c'è anche l'orario il nome dell'autore via dicendo sono tutte informazioni che eventualmente io posso cambiare ma non è il nostro interesse in questo caso verrò a cliccare qui sotto dove dice salva e quindi la nostra stampa si trasforma in un salvataggio in realtà dopo aver cliccato salva mi esce la normale finestra di salvataggio uguale a quella che sarebbe apparsa in Word ma in realtà non è di Word è di PDF creator infatti a salva come non c'è .doc ma c'è .pdf ecco che è la nostra magia in un certo senso è riuscita vado sempre a salvare magari sulla mia pennetta eccola qui la seleziono il nome del file lascio lettere commerciali mentre come tipo file è ovvio che lascerò PDF clicco salva ancora qualche istante di attesa questa animazione qui ecco ci mostra l'andamento finito posso chiudere tranquillamente il file di Word vado nella mia pennetta eccola qui e oltre ai file che già c'erano ecco quello che abbiamo appena creato lettere commerciali .pdf come vedete ha la normale icona dell'adobe reader quindi è un normale file PDF come se l'avessi creato con l'acrobat professional che vi ricordo è un software che costa alcune centinaia di euro invece io l'ho creato tranquillamente con il mio PDF creator un software open source e gratuito vi ricordo e quindi che non costa nulla se adesso vado ad aprire questo file con un doppio clic si apre nel normale acrobat reader quindi a maggior conferma ecco qua vedete lettere commerciali .pdf adobe reader si è aperto nell'adobe reader così come accade per qualsiasi file PDF ecco rimpicciolisco un po' la finestra perché si noti come il file di Word fedelmente in tutta la sua impaginazione è stato trasformato in un PDF ovviamente questo mi avvantaggia perché quando poi io spedio per posta elettronica questo file a qualcuno quel qualcuno non potrà andare a modificarlo facilmente come invece accade in Word quindi magari se devo spedire il mio curriculum ad un'azienda è sicuramente molto meglio spedirlo in formato PDF questo esempio che abbiamo fatto in Word in realtà lo potrei fare da qualsiasi altro programma molto velocemente per esempio vado in Excel e vabbè anche se in questo caso qui non abbiamo scritto niente però vado a cliccare file stampa anche qui file stampa e anche qui nell'elenco delle stampanti mi viene PDF creator quindi con lo stesso stratagemma di prima potrei trasformare un qualsiasi foglio di lavoro di Excel in un file PDF e lo stesso dicasi se aprissi per esempio Internet Explorer quindi programma per navigare in Internet posizionandomi in qualsiasi sito ecco per esempio ora vado a visualizzare il mio eccolo qui vado a visualizzare il mio sito ecco che si apre benissimo allora che cosa succede che anche in questo caso se io andassi a cliccare file stampa nelle stampanti c'è anche PDF creator quindi persino una pagina web di qualsiasi sito la potrei trasformare e salvare in formato PDF e ovviamente lo stesso dicasi se andassi ad aprire ecco qua questo lo riduco ad icona perché poi dopo lo devo riaprire per mostrarvi qualcosa se andassi ad aprire la posta elettronica e prendessi un qualsiasi messaggio di posta per esempio questo anche qui andando su file stampa anche qui ecco che esce la finestra di stampa anche qui ho come stampante virtuale PDF creator quindi ragazzi abbiamo installato un programma che universalmente da qualsiasi altro software che abbia una funzionalità di stampa quindi qualsiasi programma installato sul nostro computer che abbia il comando file stampa potrà essere utilizzato per salvare dei file PDF sono tornato un attimo qui su internet su internet explorer per farvi notare ve l'avevo detto durante l'installazione questa barra la barra appunto di PDF creator che si è aggiunta normalmente ecco fin qui sono le barre normali di internet explorer questa barra è apparsa in più e come vedete contiene un motore di ricerca certamente questa è una funzionalità minore di PDF creator mi consente di fare ricerche per esempio scriverei vediamo un po' centro computer barletta e vediamo se viene fuori il mio sito nella ricerca quindi posso utilizzare quella barra come eccoci qua centro computer multiservizi scuola di informatica eccetera eccetera quindi come vedete risultati ricerca internet quindi come vedete questo diventa un motore di ricerca integrato nell'internet explorer utilizzabile la stessa maniera come utilizziamo google in pratica e quindi per avercelo sempre a portata di mano ovviamente se dovesse infastidirvi questa barra perché può essere che a qualcuno sia indesiderata basterà fare visualizza barra degli strumenti togliere la spunta qui da pdf creator toolbar per farla scomparire e quindi tornare al nostro internet explorer vergine così come era inizialmente senza quella barra in più a questo punto vi saluto vi consiglio di esercitarvi con pdf creator andandola ad installare e provando appunto il suo funzionamento arrivederci e buon proseguimento di lettura su www.infocorsi.it Sana